Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto dal titolo ci sono delle novità per quanto riguarda il DLC di dicembre, manca veramente poco e probabilmente in settimana sapremo qualcosa da Rockstar Games, ma prima di cominciare con il video vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche visto che più del 50% di voi guarda i video ma non è iscritto quindi mi raccomando iscrivetevi per non perdervi tutti quanti i contenuti su GTA Online visto che a breve uscirà anche il DLC e se vi servono dei glitch trovate tutto quanto sul secondo canale che sta nella descrizione quindi senza perdere tempo sul podio del casino sono rimasti tre veicoli, la Zorusso che è uscita questo giovedì lo Squaddi e la Visione, quindi sono tre veicoli sul podio del casino per chi non lo sapesse ragazzi veicoli sul podio del casino vengono su GTA Online stanno mettendo sconti relativi ai colpi, la prima settimana hanno messo i colpi del 2015 quindi quelli là all'appartamento, la seconda quelli dell'Apocalisse e adesso ragazzi che la terza settimana hanno messo i colpi al casino scontati come vedete TestFans 2 ce l'aveva detto un giorno prima che avrebbero aggiunto la Zorusso che effettivamente hanno aggiunto la Zorusso quindi questo giovedì è uscita la Zorusso e avrebbero scontato e messo i soldi doppi sulle robe relative ai colpi al casino invece qui ci dice che settimana prossima sul podio del casino troveremo lo Squaddi e sarà la volta di Caio Perico quindi su Caio Perico avremo i soldi doppi e sarà veramente una cosa assurda perché guadagnerete tantissimi soldi e dice l'ultima settimana prima dell'ILC uscirà la Visione quindi facendo due conti se questo giovedì ovvero il 25 mettono i soldi doppi su Caio Perico e aggiungono anche lo Squaddi significa che giovedì 2 dicembre uscirà la Visione ragazzi e sarà l'ultima settimana prima dell'ILC ciò significa che il DILC potrà uscire o il 7 che è martedì o il 9 che è giovedì oppure ragazzi andando proprio a una cosa esagerata il 14 che è martedì eventualmente anche il 16 che è giovedì ma di solito Rockstar non rilascia mai i DILC di giovedì almeno ultimi anni è sempre rilasciato di martedì su GTA Online quindi le date più plausibili sono il 7 dicembre o il 14 dicembre secondo me ragazzi il DILC uscirà il 14 perché alla fine è la seconda praticamente settimana di dicembre e poi come al solito Rockstar quando finisce la lista dei veicoli del podio lascia lo stesso veicolo per due settimane quindi probabilmente se la Visione esce il 2 dicembre la lasceranno anche lì il 9 dicembre e poi il DILC uscirà il 14 dicembre secondo me faranno così quindi per questo inizio video vi ho detto aspettatevi alcune informazioni questa settimana o massimo la prossima perché veramente siamo agli sgoccioli a Rockstar ancora non ha detto nulla sicuramente per il fatto della GTA Trilogy perché insomma gli è uscito praticamente un gioco tra virgolette nuovo e quindi hanno preferito insomma lasciare l'hype quel poco hype che ci stava su quel gioco invece ragazzi il discorso della lista veicoli non funziona con quelle dell'autoraduno LS ma ci sono delle novità anche lì perché a quanto pare sta per uscire una Comet S2 che sarebbe uno degli ultimi veicoli usciti con il DILC con una livrea speciale questa livrea speciale ragazzi è dedicata a un altro gioco ovvero quello di Cyberpunk per chi non lo sapesse Cyberpunk 2077 è un gioco che è uscito praticamente adesso un anno fa se non erro il 12 dicembre è un anno ha flopato di brutto quindi è veramente andato malissimo e doveva essere praticamente il GTA Killer quindi secondo me Rockstar sta facendo una trollata anche se a mio modo di vedere non hanno nulla da perculare a quelli di City Project Red visto che hanno fatto una ciofeca assurda con l'ultima GTA Trilogy quindi dovrebbero solo stare zitti e rilasciare i DILC poi per chi si fosse perso l'ultimo video sul DILC ragazzi semplicemente come ogni Natale arriveranno dei colpi quest'anno probabilmente non saranno colpi giganteschi come quelli a Casino e come quelli di Caio Perico sarà una roba più limitata e già qui non mi piace onestamente a quanto dicono limitata ai nightclub a quanto pare ruberemo per conto di vari musicisti che sono all'interno del gioco insomma vi ho fatto un video completo a riguardo che dura poco quindi andatevelo a vedere se volete più dettagli e quindi semplicemente saranno nuovi colpi probabilmente stile quelli del LS Tuners che sono usciti quest'estate quindi saranno mini contratti speriamo fatti meglio quindi ragazzi vi ripeto aspettate informazioni questa settimana mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi tutti quanti gli aggiornamenti e seguitemi anche su Instagram trovate tutto quanto nella descrizione vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video